oggi è il mio primo video su among us e su no climate vabbè vabbè sono velocissimi la carta andiamo in electrical non ho pensato che mi sa di strano l'azzurro non vorrei di nulla ma secondo me secondo me l'azzurro secondo me l'azzurro è l'impostore se muore non è colpa mia non manca solo veramente ok facciamo apple engine e basta e dopo stiamo tutto il tempo a telecamere guardiamo qualcosa guard se se curiti e come si dice e light blue light blue il light blue sono sicuro non sicuro che light blue aspettiamo cosa è successo nooo due hanno schippato due hanno schippato vediamo però quanti impostori ci sono oddio vediamo questa partita è durata proprio poco ne faccio un'altra casa un'altra casa un'altra casa un'altra casa un'altra casa il cos'è questo è un'altra casa un'altra casa È light blue, sono sicuro. Chi ha votato Bok? Oddio mio, mio, mio. No, raga, era l'impostore. Dai, dai, era l'impostore. Killami, killami, killami. Killami, impostore. Doh. Il problema è che... Se... Mi manca la tua impostore. L'ho gioco, è sicuro. No, l'ho detto. Facciamo un'altra partita, visto che è durata poco. Questa. No, non è una gioia, ci sono tante persone. Remate. Bene. Allora, vediamo. Ma, dopo, io... Aspettate. Io non ho capito mai l'impostore, cioè... Io ho capito pochissime volte. Quelle pochissime volte... Non riesco neanche... Neanche... A fare kill. Una volta sono andato nel posto dove ho ucciso uno, e là... E là mi hanno scoperto, perché... Io volevo far finta che l'avevo visto in videocamera, ma però non c'era in quella videocamera. E che cos'è? Quante... Vabbè, faccio le tasche, ma... Sono tantissime, cioè... Perché non ho dato così tante tasche? Vabbè, non capisco... Cioè, spero che c'è razza... Non può durare trentane... E... Start... 3, 2, 1... Sempre crewmate! Sarà il video che porta sfortuna? Comunque, lasciate like se volete che voi e io saremo impostori. Non so bene i verbi, se l'ho detto giusto, giusto, se non l'ho detto, vabbè... Non è colpa mia se non so i verbi... Che ha spento le luci? Io, mamma! Che battuta! Non mi dite così! Non è colpa! Non è colpa! No, no! È morto pakistano! E va bene, ho fatto le kill qua! black burble tango sa te io io voto io ho votato il viola perché secondo me lei era l'impostore un era al bianco ok questo video lo concludo qua spero vi sia piaciuto